Tecnologia e sicurezza, tutela della privacy, limiti di immuni e progetti futuri. Daniela Ghironi, dipendente dell'azienda Bending Spoons, è a capo dell'area che ha sviluppato il codice per il server di immuni, l'app italiana scelta dal Ministero della Salute per tracciare gli spostamenti dei cittadini nella lotta al Covid-19. Ad Aska News racconta come è nata l'app. Abbiamo iniziato a svilupparla, mi pare, verso metà marzo, quindi stiamo parlando di un bel po' di mesi fa. Sicuramente la prima fase era abbastanza diversa dalla versione che poi tutti hanno visto pubblicata sugli store. Questo perché chiaramente quando poi abbiamo partecipato al BAND e quando poi abbiamo interagito anche con il Ministero, anche con il Ministero della Salute, sicuramente abbiamo ricevuto tanti input, tanti feedback da parte loro e quindi anche i requisiti un po' dell'app sono cambiati e di conseguenza la versione finale era abbastanza diversa dall'idea iniziale. E sui limiti che presenta l'app, come la necessità di avere un iPhone superiore al modello 6S, Ghironi spiega. Il problema principale è che l'app immuni, così come le app di altri paesi europei, come ad esempio la Germania, si basano sulla tecnologia che in realtà è offerta da Apple e da Google, che poi sono alla fine i principali produttori di smartphone al mondo. In realtà sono loro a controllare sia su quali dispositivi viene messa a disposizione la tecnologia, visto che comunque dipende da caratteristiche fisiche del cellulare e anche dalla versione del sistema operativo che è installato appunto sul dispositivo. Quindi è possibile che in futuro questa funzionalità venga rilasciata anche su un maggior numero di modelli, ma purtroppo è una decisione su cui noi sviluppatori non abbiamo alcun controllo, quindi non c'è nulla che possiamo fare a riguardo. Mentre sulla sicurezza e la tutela della privacy, la sviluppatrice tranquillizza. Sicuramente un po' di dichiarazioni che ci sono state all'inizio, sin dall'inizio in cui si inizia a parlare di questa app, sicuramente non hanno aiutato a far capire anche bene come in realtà poi funziona e tra l'altro tutte le accuse che si sono sosseguite nel tempo relative alla privacy in particolare. Poi alla fine si sono liberate alla realtà delle accuse abbastanza infondate. Io poi penso che un altro motivo per cui magari il numero di download si è un po' frenato nell'ultimo periodo è anche dovuto al fatto che ora abbiamo meno casi positivi e quindi magari gli utenti in questo momento sentono o comunque sentono meno la necessità di adottare uno strumento di questo tipo. Quali gli aspetti che si potrebbero migliorare rispetto all'attuale versione? Un aspetto importante su cui lavorare, che so che in realtà è qualcosa che è già previsto, sarebbe quello di lavorare all'interoperabilità tra le varie applicazioni, cioè se io poi mi sposto all'estero, mi sposto in un paese europeo e potenzialmente, non so, un contatto con una persona che poi risulta positiva, sicuramente è importante che poi io, anche se poi ho installato l'app italiana, io venga avvisato se eventualmente ho avuto contatto con una persona, non so, in Germania, per esempio. Quindi questo è un altro aspetto secondo me importante su cui si potrebbe lavorare in futuro.